Sì, oggi 7 ottobre siamo pronti per partire per Salemi per la quinta giornata di campionato. È una partita molto importante, ci siamo preparati bene e siamo carichi per questa partita. Siamo qua col mister. Mister cosa pensi? Niente, io siamo alla quinta giornata però alla quarta partita per noi. Noi ne abbiamo vinto tre, oggi abbiamo una partita molto insidiosa perché il Salemi si presenta a quanto pare, si è presentato in aste di partenza come la squadra favorita insieme a qualche altra. Noi andiamo lì per fare il risultato pieno, sappiamo della nostra forza, rispettiamo tutti ma non abbiamo timore di nessuno. Sperando che oggi prendiamo tre punti così per poter continuare questa striscia positiva di tre giornate. Allora, in settimana partirà anche il sito, la pagina Facebook sulla quale daremo informazioni su tutti quelli che sono i momenti della squadra, quindi gli allenamenti, le partite e quant'altro. Io invito tutti, i cittadini, gli sportivi, gli imprenditori a dare una mano a questa società che è neonata e che deve partire per avviare un nuovo ciclo. La prossima domenica saremo qui allo stadio e speriamo di avere un gran numero di spettatori, di abbonati e di nuovi sponsor.